Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info Artigian Fidi, la struttura di garanzia per il credito promossa da Confartigianato Vicenza, ha recentemente sottoscritto una convenzione con la Banca Popolare Friuladria. Sono quindi 10 gli accordi realizzati fino ad oggi con istituti operanti in provincia. Friuladria, che delle sue 200 filiali ne ha ben 100 in Veneto, è stata descritta dal presidente di Artigian Fidi, Mariano Miola, come un ottimo interlocutore perché da sempre mantiene uno stretto rapporto con il mondo dell'artigianato e ha quindi acquisito conoscenze specifiche su logiche ed esigenze del settore. Questa capacità di ascolto, ha commentato Miola, è confermata dalle favorevoli condizioni di accesso al credito riservate da Friuladria ai nostri soci, come ad esempio la scelta di non applicare la commissione sulla disponibilità Fido. Abbiamo rafforzato la nostra presenza nella provincia berica, ha detto il direttore generale di Friuladria, Carlo Corosara, proprio per riaffermare qui la storica vocazione della banca, ovvero essere punto di riferimento per le piccole e medie imprese. Grazie.